Questa è già la prima vittoria. Dopo due anni quello che voi vedete è il risultato del lavoro del Movimento 5 Stelle di Milano, una proposta per introdurre nello Statuto del Comune il referendum deliberativo di iniziativa popolare. Senza quorum, finalmente i cittadini potranno avere la stessa potestà del Consiglio Comunale, decidere del loro futuro. Noi siamo solo stati uno strumento e come cittadini raccoglieremo le firme per ottenere la variazione dello Statuto stesso. Sempre peggio.